Quando eravamo a Gliolè, a Cagliacampamonte, tutto ne eravamo andato. Tu pensi, la buonanima è mio padre. Noi avevamo circa 700 metri di distanza. Seminava l'aglio, ma senza irrigare, senza niente, l'aglio rosso. Lavorato tutto col muro, tutto col muro. Eppure si raccoglieva, era pieno di frutta qui, terreni tutti seminati. C'erano vigne, sì, uva buona, grano, randurco, pure patate seminavano. Animale a Pasquale nella montagna. Adesso il tema è cambiato, terreni incorti. Lavorano tutti quelli che cucino con i trattori. E qui abbiamo due belle querce. Questa è una querce della famiglia, la querce. Questa dovrebbe essere una roverella.